Fiumi di droga sull'asse Catania-Marsala, all'alba di oggi il blizzo dei carabinieri, 11 indagati, sequestrate anche due società di noleggio auto. Getta il crack dalla finestra, arrestato e accaduto nel popolare quartiere di Fontanelle, l'operazione è stata condotta dalla polizia di Trapani. L'aeroporto si racconta, realizzato un video promozionale, sullo scalo di Trapani-Virgi. Ben ritrovati i fiumi di coca sull'asse Catania-Marsala, all'alba di oggi è scattato il blizzo dei carabinieri, 11 indagati. Fiumi di cocaina sull'asse Catania-Marsala, all'alba di oggi il blizzo antidroga, 11 indagati. I carabinieri della compagnia di Marsala, diretti e coordinati dalla locale procura con l'ausilio del nucleo cinofili di Palermo-Villa Grazia e del dodicesimo reggimento carabinieri Sicilia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale Lili Betano su richiesta della procura nei confronti di 11 persone. Tre sono finite in carcere, tre agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. Cinque, invece, sono state raggiunti dalla obblighi di dimora nel comune di Marsala, con divieto di uscire nelle ore notturne. I reati contestati sono traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione antidroga denominata Fox, sono state sequestrate due società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala riconducibili a uno degli indagati. Dalle indagini è emerso che i corrieri viaggiavano tra il capoluogo etneo e la cittadina trapanese a bordo di auto a noleggio intestate alle due società sequestrate per non dare nell'occhio e deludere eventuali controlli delle forze dell'ordine. Una volta arrivata a Marsala, la droga veniva poi ceduta a pusher locali e immessa nelle piazze di spaccio. Nel marzo del 2021, in piena emergenza Covid, i militari dell'arma, durante un servizio di controllo svolto nei pressi dell'area di servizio Cocci Grill, lungo lo scorrimento veloce che collega Trapani con Marsala, avevano arrestato un catanese con numerosi precedenti penali ed un marsalese, entrambi percettori di reddito di cittadinanza, che nel vano bagagli di un'auto, presa a noleggio, nascondevano due chili di cocaina pura. Lo stupefacente, una volta emesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 200 mila euro. Tra le persone destinatari dell'ordinanza firmata dal GIP di Marsala, c'è un corriere catanese di 45 anni, che nei giorni scorsi è stato arrestato in un'operazione dei carabinieri di Catania su un traffico di stupefacenti che avveniva all'ombra del clan mafioso dei Cappello. All'alba di oggi, invece, in carcere sono finiti Pietro Marino di Marsala, Agatino Lorenzo Abate di Catania, Vincenzo Fabio Licari di Marsala, arresti domiciliari per Giorgia Marino di Marsala, Giovanna Martino di Marsala, Loris Carmelo Abate di Catania, Giuseppe Lamantia di Petrosino, obbligo di dimora per Vittoria Stefania Squillace di Marsala, Gaspare Maurizio Giannone di Marsala, Vincenzo Andrea Giannone di Marsala e Francesco Vinci di Marsala. E nel corso del blitz antidroga sono state sequestrate anche due società coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. La cocaina scorreva a fiumi nelle piazze di spaccio di Marsala. Ogni mese da Catania, nella città lilibetana, arrivavano due chili di polvere bianca, il dato allarmante emerso dall'operazione antidroga denominata Fox. I corrieri trasportavano la sostanza stupefacente a bordo di autoprese a noleggio, un escamotaggio per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Giunta a destinazione, la coca veniva poi smerciata da pusher locali che potevano contare su una clientela variegata. E il blitz di questa mattina è culminato anche nel sequestro di due società. Si tratta della Mari Autonoleggio amministrata da Pietro Marino e della Mari Autonoleggio di Loretana L'Amico. L'inchiesta ha avuto origine proprio dall'arresto di Pietro Marino, detto Piero, nell'ottobre del 2020 per detenzione e finito di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina custodita in una stanza annessa agli uffici della Mari Autonoleggio di Contrata Santa Venera. Nell'occasione furono trovati 38.000 euro in contanti e Marino è stato anche condannato a tre anni di reclusione e 20.000 euro di multa. I veicoli dell'azienda di Autonoleggio venivano proprio utilizzati per il trasporto della droga e molte delle indagini si sono svolte proprie con intercettazioni fuori e dentro la concessionaria. Andiamo avanti con la cronaca. Getta crack dalla finestra di casa ma viene arrestato dalla polizia di Trapani e è accaduto nel popolare quartiere Fontanelle. Aveva cercato di disfarsi del crack gettandolo dalla finestra di casa. La droga però è stata recuperata dalla polizia e lo spacciatore è stato così arrestato. È accaduto nel popolare quartiere Fontanelle, alla periferia di Trapani, protagonista della vicenda un 28enne già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Nel corso di un controllo di routine, intuito che i poliziotti avessero intenzione di perquisire la sua abitazione, il giovane ha gettato dalla finestra in una busta contenente oltre 200 grammi di crack, recuperata subito dagli agenti che hanno trovato in casa un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, appunti manoscritti con indicazione dei clienti e oltre 3.000 euro in contanti. Estesa la perquisizione all'astrico solare sovrastante l'appartamento di pertinenza dell'intero stabile, i poliziotti, con l'ausilio di unità cinofile, hanno poi rinvenuto oltre un chilogrammo di marijuana, circa 4 chilogrammi di asci, oltre ad una riproduzione di pistola modificata in arma comune da sparo munita di silenziatore assieme a diverso materiale destinato alla trasformazione della cocaina in crack. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e richiuso al Pietro Cerulli. Multato un pensionato di Favignana che è stato sorpreso ad abbandonare rifiuti per la strada. È uscito di casa all'alba per sconturare di essere notato da qualcuno mentre abbandonava rifiuti per la strada. Gli è andata male però le telecamere di videosorveglianza infatti lo hanno immortalato mentre si disfaceva di un sacchetto di rifiuti indifferenziati in pieno centro a Favignana, protagonista della vicenda un uomo di 70 anni che è stato multato. Gli agenti della polizia municipale infatti sono riusciti ad individuarlo dopo aver visionato i filmati. L'anziano ora deve mettere mano al portafogli e sborsare la somma di 600 euro. Un malcostumo è quello di abbandonare la spazzatura per la strada che nell'isola ancora ben radicato nonostante rincalzare dei vigili urbani. Sono numerosi i casi al baglio dei nostri uffici, alcuni già in fase di definizione, dice il comandante Giuseppe Libero Carbone. I controlli proseguiranno e saranno intensificati nelle prossime settimane anche implementando il numero di telecamere. La salvaguardia dell'ambiente e del territorio delle Ecati è importante e riguarda tutti, afferma invece il sindaco Francesco Forgione ed aggiunge, soltanto con l'impegno di ognuno di noi si può tenere il territorio pulito, infidopettando tutti i cittadini e coloro che soggiornano nelle Ecati a rispettare le norme e a mantenere una condotta civile. Cambiamo adesso argomento. L'aeroporto di Trapani Birgi si racconta in un video promozionale. Un rill accattivante è la potenza dei social per promuovere in modo low cost ma efficace l'immagine dell'aeroporto e del territorio trapanese, puntando sul motore inesauribile dell'amore e della bellezza. È stato presentato ufficialmente sui canali web e social dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Let's Your Dream Fly, un video promozionale realizzato in economia con il personale dello Scalo e grazie alla collaborazione con il distretto turistico della Sicilia occidentale, da creativi locali già impegnati nella campagna di comunicazione per spiegare la nuova viabilità dello Scalo e la nuova app per il pagamento del parcheggio. La forza del nostro aeroporto negli anni che ci ha visto passare dal fondo alla risalita, ha spiegato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto Trapani Birgi, è sempre stata la vicinanza e l'affetto dei trapanesi verso il loro Scalo, preziosa fonte di incoming per turismo, commercio e libertà di muoversi per studio, salute, lavoro e quant'altro. Anche in questo caso la realizzazione del video Let's Your Dream Fly, che giudico molto bello e ben fatto, è frutto di amore. Quello di un creativo locale che è ingaggiato per realizzare un tutorial sulla nuova app per il parcheggio, ha fatto montare un nuovo video glamour promozionale ed empatico per la promozione turistica del territorio e dello Scalo. Sulla destinazione e le modalità di realizzazione del video, il presidente Salvatore Ombra ha commentato. È stata una produzione realizzata grazie alla generosità di un artista locale che ha usato come attori e comparse il personale di Airgest e spezzoni di video e foto prese dal bacino di West of Sicily, del distretto turistico della Sicilia occidentale, preseduto da Rosalia Dalì in qualità di media partner. Lo useremo nei nostri totem, in quelli degli altri aeroporti che lo ospiteranno e ovviamente per presentarci alle compagnie aeree e nelle fiere, facendo anche risparmiare all'azienda i costi delle trasferte del management per la promozione tradizionale. Perché, conclude Ombra, un'immagine esaustiva è meglio di mille parole. Lanciamo un appello ai trapanesi e a tutti coloro che amano la nostra ricchezza naturale, artistica e gastronomica di aiutarci a farlo diventare virale condividendolo. Il video della durata di 1 minuto e 39 secondi, intitolato Let's You Dream Fly, è un racconto emozionale verso l'aeroporto di Trapani Birgi dal punto di vista di una donna, che nella realtà è un addetta al check-in di Airgest, che guardando il proprio cellulare scopre le tante ragioni per cui visitare questa meta. Nel video compaiono alcune immagini del territorio, come la Porta Blu nel quartiere arabo di Mazzara del Vallo, il Tempio di Segesta, l'arte culinaria con arancine, cannoli e vino, le spiagge di Castellammare del Golfo, con i bambini e le mamme che giocano e foto dei comuni, prese dal repertorio del distretto turistico della Sicilia occidentale. Da venerdì a Trapani appuntamento con gli stati generali della lettura. È un grande orgoglio per noi il fatto che il Ministero della Cultura, attraverso il CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, abbia scelto proprio la città di Trapani per ospitare questo evento nazionale importantissimo, molto prestigioso, che sono gli stati generali dei patti per la lettura. Un evento che il Ministero organizza ogni anno, l'anno scorso è stato ad Assisi, l'anno prima a Taormina, e che raduna attorno ad un tavolo tante personalità importanti nel mondo delle biblioteche, della lettura, intellettuali, per ragionare sul futuro e sulle azioni di sviluppo che vanno fatte per promuovere il libro e per anche modernizzare il concetto di biblioteche. Saranno presenti a Trapani, oltre che rappresentanti istituzionali del Ministero, anche degli esempi di successi, che sono la rete delle biblioteche di Venezia, di Pescara, ma anche esempi virtuosi del territorio, ci saranno anche, si parlerà dell'arte bonus per le biblioteche, e tutto questo ci hanno scelto a Trapani perché in questi cinque anni noi abbiamo iniziato un ragionamento davvero virtuoso, abbiamo tenuto il titolo di Città che legge, abbiamo costituito diversi patti per la lettura, il Comune di Trapani è aderito alla rete dei festival letterari, abbiamo fatto la prima mappa dei festival letterari che abbiamo promosso attraverso il distretto turistico in tantissime fiere e poi abbiamo anche, siamo candidati a Trapani Capitale del Libro. Tutto questo malgrado la biblioteca fardegliana abbia un seri problemi. La biblioteca fardegliana non ha problemi, è viva, è vegeta, sta facendo dei lavori che stanno per terminare e avrà ottenuto un finanziamento di oltre 350 mila euro per renderla più accessibile ma soprattutto sarà presente, ci tengo a dirlo, durante gli stati generali la professoressa Agnoli che è stata la direttrice scientifica del dossier di candidatura Capitale del Libro e lei ha scritto il futuro della biblioteca di Trapani e infatti noi attueremo questo dossier in cui il centro propulsore non sarà soltanto Palazzo San Giacomo, quindi là dove c'è la biblioteca ma anche il San Domenico che come si sa ha ottenuto il finanziamento che è già stato inappaltato. Appuntamento dunque venerdì? Venerdì 12 maggio a partire dalle 15.15 a Palazzo Milo è la sede della sorrintendenza e poi proseguirà sabato mattina dalle 10.30 in poi per poi la grande conclusione del direttore generale il professore, il dottore Cappello, Angelo Piero Cappello. Campobello di Mazzara invece ospiterà la mostra Terremoti d'Italia organizzata dalla protezione civile. Si tratta di un'importantissima mostra voluta dal Dipartimento Nazionale della protezione civile una mostra nazionale nel senso che è stata in giro per l'Italia, in particolare in Sicilia questa è la terza tappa, è stata un mese a Catania, un mese a Palermo e ora, tentiamo con grande ansia, venerdì 12 alle ore 11 verrà inaugurata a Campobello e chiaramente la scelta di Campobello è una scelta che ha un senso per le note vicende che riguardano la cittadina di Campobello il governo regionale e il Dipartimento Nazionale hanno voluto con forza questa tappa per dimostrare che lo Stato non dimentica i territori che più hanno bisogno di attenzione. La mostra è tutta incendrata su quello che significa rischio sismico c'è una parte storica sia nelle strumentazioni come gli antichi che riconoscevano i rischi sismici poi soprattutto c'è una parte che riguarda i più grandi sisma italiani in questo, ahimè, la Sicilia ne ha visto di parecchie abbastanza complesse poi soprattutto ci sono le macchine estremamente interessanti dove è possibile da un lato, in una in particolare, riprodurre proprio i terremoti e poi c'è un'altra che reputo altrettanto interessante dove è possibile vedere come costruendo, diciamo, con tecniche innovative un po' come si fa in Giappone a parità, diciamo, di scossa di un terremoto ci possono essere edifici che non hanno assolutamente danni ed edifici che crollano questo è visibile direttamente e i ragazzi che l'hanno visitata perché la mostra chiaramente è aperta a tutte ma è più una mostra didattica quindi noi stiamo puntando molto sulle scuole avranno modo di vedere cosa significa terremoti come si può fare la prevenzione e soprattutto come si può costruire in misura, diciamo che risponda a fare in modo che non ci siano poi danni durante le scosse è tutto per questa edizione buon proseguo